Ok ragazzi, abbiamo parlato un po' di quello che è la posizione di base, la curva, il movimento delle spalle, la direzione, quelle cose lì. Perché non parliamo anche un po' di divertimento puro, che è proprio lo snowboard. Già salendo su una seggiovia, chi è uno snowboardista incomincia già a fantasticare, a guardare le linee che si possono fare, la neve fresca, i dossi, i salti, cioè incominciare già a immaginarsi la discesa che si vuole fare, divertendosi sempre al massimo. Molti di noi sono anche surfisti diciamo, quindi sempre stare o sulla neve o in mezzo al mare a fare surf d'onda, comunque sempre in un ambiente all'aria aperta. Riuscire a fare un lavoro di questo tipo qua all'aria aperta è sicuramente una, almeno per me, una soddisfazione immensa. Poi dopo ovviamente la testa a posto e a un determinato punto magari bisognava, magari. Nell'anima abbiamo la libertà penso, la libertà di spaziare ovunque. Infatti le piste a noi non sono molto console, ma vogliamo andare dovunque e più ci proibiscono di andare in determinati posti, più abbiamo voglia di andare in questi posti. Ricordatevi comunque che il fuori pista è sicuramente la cosa più bella che ci sia, però bisogna sempre avere un occhio e stare sempre molto attenti a quello al terreno e al posto dove si va a fare snowboard. Lo snowboard è accompagnato perennemente dalla musica, anzi ultimamente si vede sempre più i rider andare anche a snowboardare con le cuffie in testa. Non è più solo un contorno, ma fa parte proprio del momento in cui uno sta vivendo anche il gesto dello snowboard. La musica è tutto, penso, in qualsiasi cosa, ti trasmette delle sensazioni che vanno poi a integrare quello che possono essere le sensazioni che ti fa provare lo snowboard. Quindi è una cosa importantissima. Ognuno poi ha i suoi gusti, ma bene o male nello snowboard va un po' di rock, hardcore, reggae, insomma un po' di tutti i generi. Comunque la musica è fondamentale in questo mondo. Uno che prende seriamente lo sport. e sta diventando sempre più professionale e quindi deve essere anche sempre più professionale chi lo affronta e arriva a dei livelli altissimi, può diventare ricco addirittura. Ci sono un bel po' di rider che sono diventati dei miti ormai. I soldi alla fine non sono poi la cosa più importante. Una volta che ti diverti con gli amici che vanno magari su un passo, ti costruisci il salto, stai lì tutta la giornata con i tuoi amici a sparare cavorate, divertirti, a saltare, una cosa o un'altra, sei più soddisfatto che magari aver avuto una montagna di soldi da parte e non averne mai spiegato. Ogni gara, ogni manifestazione, qualsiasi cosa che fai è sempre accompagnato da una festa, che sia grossa o piccola è sempre una festa. e i rider si scatenano dopo una giornata di snowboard in una festa indimenticabile sicuramente. Noi con la nostra esuberanza magari esageriamo e facciamo proprio festa a testa. Ovviamente le feste seguono sempre la gara e di solito non anticipano mai la gara, così che dopo la gara tutti gli amici, festone e via. Una cosa positiva è che sono riusciti a portare lo snowboard in città, quindi a far vedere a tanta gente che magari non ha la possibilità di andare in montagna, di vedere proprio il mondo dello snowboard, non solo il gesto tecnico in se stesso, ma anche stare a contatto con gli atleti stessi, capire un po' che gente è, vedere cosa fanno, cosa non fanno, perché comunque sono eventi legati sempre a concerti, a feste, a manifestazioni proprio del mondo intero dello snowboard, concentrati magari in un paio di serate in città. L'evento per eccellenza che è l'Aeran Style che si tiene in Austria vicino a Innsbruck, dove c'è sempre una folla immensa di 20-30 mila persone che vanno a vedere per 2-3 ore questi ampletti che fanno manovre incredibili su un salto enorme. Grazie a tutti.